Salve a tutti amici di Youtube, se volete altre meditazioni guidate, cliccate nel link qui sotto in descrizione o qui nello schermo. Vi chiedo di sdraiarvi in un luogo a voi comodo. Chiudete lentamente gli occhi e concentrate la vostra attenzione sul respiro. Questa meditazione è stata creata specificamente per meditare la notte. Se volete potete ascoltarla anche prima di andare a dormire. La notte ha un'energia particolare ed è un momento opportuno per meditare in un determinato modo. Facciamo tre respiri profondi, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Inspiriamo lentamente, espiriamo profondamente, buttiamo fuori tutto lo stress, le tensioni, Completamente rilassati. Inspiriamo Espiriamo Ancora una volta Adesso respiriamo normalmente Cerchiamo 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 di rilassare tutto il corpo Cerchiamo di rilassare i piedi, le caviglie, le ginocchia, le gambe, completamente rilassati. Rilassiamo Rilassiamo il bacino, lo stomaco, respiriamo lentamente e profondamente. Sentiamo Sentiamo Come si rilassa il petto Il collo La schiena Si rilassano le spalle Le mani Le braccia Rilassiamo Rilassiamo Il viso Gli occhi Il noso La bocca La fronte La testa E la gola Lasciamo andare Tutte Tutte Le tensioni Mettiamo l'attenzione sul nostro respiro E ripetiamo mentalmente le seguenti frasi Prendo L'energia del giorno Prendo l'energia del giorno quando inalo E lascio andare tutto ciò che non è mio quando esalo Inaliamo e ripetiamo mentalmente Lascio andare tutto ciò che non è mio Le negatività, lo stress, le tensioni Inala e ripeti Prendo l'energia del giorno Esala e ripeti Lascio andare tutto ciò che non è mio Prendo l'energia del giorno Prendo l'energia del giorno Lascio andare tutto ciò che non è mio Continuiamo a ripetere quando inaliamo Prendo l'energia del giorno Prendo l'energia del giorno Prendo l'energia del giorno Lascio andare tutto ciò che non è mio Prendo l'energia del giorno Prendo l'energia del giorno Prendo l'energia del giorno Grazie a tutti. 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 Se volete potete addormentarvi oppure svegliarvi quando preferite. Potete aspettare un minuto, cinque minuti, dieci minuti. Come volete, come volete, scegliete voi. Sentite cosa è meglio per il vostro corpo, per la vostra anima e per tutto il vostro essere. Grazie a tutti.